Rinnovo dell'accordo fino al 2025 del protocollo d'intesa fra Regione Molise e Università degli Studi del Molise per la disciplina dell'integrazione fra le attività didattiche, scientifiche e assistenziali. Il commissario d'accata della Sanità molisana Donato Toma. Delle specializzazioni, degli ambiti di formazione e ricerca e di assistenza in cui l'Università potrà intervenire nell'ambito della nostra ASREM. Abbiamo previsto tutto ciò che era possibile prevedere, chiaramente le attivazioni saranno scaglionate in relazione alle possibilità anche finanziarie che avremo e alle disponibilità da parte dell'Università, ma c'è la voglia di far di più, di fare meglio e di far finalmente sbocciare questa sanità molisana che tanto ci sta a cuore. In questo contesto ritorna il progetto del Policlinico Universitario, risolutore di un duplice problema ricollegabile al personale e dall'elevazione delle prestazioni sanitarie. Noi in programmazione economica diciamo che gli obiettivi hanno tre ambiti, ci sono i cosiddetti obiettivi correnti, ci sono gli obiettivi possibili e gli obiettivi ideali a cui tu devi tendere. Io però ritengo che il Policlinico Universitario sia un obiettivo possibile e vorrei lavorarci assieme al Rettore Luca Brunese e a tutta l'Università. Il Rettore dell'Università degli Studi del Molise, Luca Brunese, ha parlato di medici che non graviterebbero sull'azienda sanitaria ma sul Ministero dell'Università. Una ipotesi che nell'arco di 5-6 anni porterebbe ad avere 200 medici pagati dal Ministero che faranno il percorso di specializzazione all'interno delle nostre strutture sanitarie. In realtà i contratti per i medici in formazione specialistica sono pagati dal Ministero dell'Università. Noi tocca istituire le scuole, mettere in condizione i ragazzi, i medici nei lavoriati di fare il percorso all'interno della nostra rete ospedaliera e poi naturalmente ottenere dal Ministero la copertura di alcune borse per le scuole che noi richiediamo. Attualmente quest'anno sono arrivati 20, 20 medici che hanno cominciato il percorso. Diciamo che seppure fossero 20 all'anno su 4 anni sarebbero 80, il nostro obiettivo è 50 per 200 medici al regime. Non è una cosa impossibile. Io penso che nell'arco di 5-6 anni noi avremo 200 medici pagati dal sistema dal Ministero dell'Università che fanno il percorso di specializzazione all'interno della nostra struttura. Grazie a tutti.